Grazie a tutti. È d'obbligo perché si sono appena conclusi i mondiali di sci di cortina e quindi vorrei così chiedere un suo bilancio, un suo punto di vista su questo grande evento per il territorio belunese. Date le premesse è stato un grande risultato, purtroppo senza pubblico, ma gli organizzatori hanno fatto al meglio tutto quello che potevano. La risonanza è stata mondiale e sicuramente abbiamo avuto anche dalla nostra un certo periodo di bel tempo che ha fatto sì che le nostre montagne venissero esposte nella luce migliore. E quindi bene, è una prova generale per la prova ben più importante del 26 quando ci saranno le Olimpiadi, sperando non ci siano virus di nessun tipo e che quindi la provincia possa essere. Però ci dovrà essere per allora anche una viabilità migliore. Si sta leggendo, abbiamo letto sui giornali, sono state ore di fila per ritornare. Non è possibile. Non sono più i tempi da fare tre ore di fila per far 40 chilometri. Dobbiamo veramente studiare una viabilità migliore. Senta Presidente, i mondiali hanno comunque portato una boccata d'ossigeno anche per quelli che sono stati gli albergatori, l'attività degli albergatori se non altro di Cortina, ma non solo. Sì, abbiamo avuto anche Roberta Alverà che diceva che c'è stata una boccata d'ossigeno che è la Presidente degli albergatori di Cortina, ma è troppo poco qualche giorno in questa maniera. La situazione, la stagione è stata un fallimento. Questo può aver portato, i mondiali possono aver portato sicuramente un beneficio, ma non hanno messo a posto i conti. Non hanno messo a posto i conti. E noi oggi stiamo soffrendo. Io spero veramente che possano arrivare questi finanziamenti tanto auspicati, questi ristori. Ecco, e veniamo proprio adesso al tema, diciamo così delicato. Purtroppo la montagna, la montagna bellunese è in grande sofferenza, tutta la montagna veneta è in grande sofferenza per questa stagione invernale che ancora non è mai partita. No, non è mai partita e mai partirà. Due sono le cose che io devo fare, proprio come appunto. Una che non c'è stata una programmazione. L'ultima volta la domenica sera ci dicono che il lunedì non si apre. Beh, devi dirlo prima perché gli operatori hanno preparato gli alberghi, hanno preparato la merce magari fatta arrivare con l'elicottero nei rifugi e poi con l'elicottero hanno dovuto riportarla in giù. Sapete che costo fenomenale per tutta questa gente? E poi i dipendenti. I dipendenti assunti che sono venuti la sera, erano pronti per partire il giorno dopo e arriva non si parte più. E' un danno gravissimo e questa veramente, bisogna dire, è una responsabilità di chi ha fatto questi provvedimenti legittimi. Io l'ho detto, la sanità prima di tutto, però dobbiamo tener conto dell'economia e anche della psicologia della gente. La paura continua che questo virus ci porta. Ultimamente mi sono permesso di esprimere anche un parere proprio sui media. Abbiamo una sovraesposizione di scienziati, virologi. Uno dice una cosa, uno dice l'altra. E allora parlo da consumatore privato e tutte le volte rimango sbalordito, impaurito perché uno dice una cosa, uno ne dice un'altra. Lasciamo un attimo decantare le cose che questi scienziati dicano le cose a chi di dovere. Chi di dovere faccia le leggi, anche i lockdown se è il caso. Ma non un continuo martellamento di ore e ore e ore, cosa dice lei, cosa dice quell'altro. Tanto non lo sanno neanche loro perché può capitare di tutto. Io non sono un virologo ma penso che con il caldo dovrebbe calmarsi questa pandemia. E allora dico anch'io la mia ma non ha senso perché non è sicuro. E poi fin tanto che non arrivano i vaccini ricordiamoci che ci sarà sempre uno stato di emergenza. Quello è il grande tema, quello è il grande punto anche per risollevare il nostro turismo. Ma dobbiamo essere i primi a essere covid free perché allora ci mettiamo nel mercato e diciamo da noi puoi essere sicuro perché siamo vaccinati, perché non c'è più il virus. Io spero in una Pasqua discreta e spero nella stagione estiva perché la stagione estiva veramente guardate che ormai stiamo avvicinandoci alla fine di quest'anno ai due anni di grande sofferenza. Quindi secondo lei Presidente avrebbe senso o non avrebbe senso riaprire questi impianti, far partire? Comunque non è più economico una volta che ci fosse la possibilità? Per me non è economico, per me non è economico che poi sono delle scelte dei privati e perciò faranno quello che vogliono. A marzo sarebbe come dire che tutti andiamo al mare a ottobre e novembre. Sì sì il mare è lì, però quando si scia, si scia a marzo, io sono uno sciatore, a marzo si scia le prime due ore e dopodiché la neve diventa problematica anche proprio con lo sci. E poi c'è un altro fatto, la legge ultima, il decreto di uno stop fra regioni fino al 27 marzo. Allora chi andrebbe a sciare? Solamente i veneti, i quali non porterebbero un grande utile ai alberghi perché vanno e tornano in giornata quasi tutti. E quanti vengono? Io per esempio non andrei a sciare adesso e sicuramente chissà se poi il 5 dicono va bene. E il 5 per quanti giorni è? Il 27? Sì, su in cima probabilmente nelle zone alte si potrà sciare magari anche fino a Pasqua, ma sono poche. Io sto parlando degli impianti anche di media montagna, al Nevegal, sto parlando del Monte Avena, cioè zone anche non di alta montagna. Probabilmente nelle zone alte si può sciare. Ma quanti è che possono andare su, visto che c'è questa limitazione fra regioni? E poi questa zona, in questo periodo, arrivavano molti dai paesi dell'Est, dall'Austria, anche dalla Germania. Quest'anno difficilmente arrivano. Quindi per la montagna è davvero un brutto colpo. Ricordiamo che il Governo si era impegnato con l'ordinanza che era stata firmata dal Ministro Speranza a compensare il più presto gli operatori del settore con gli adeguati ristori. Ma la richiesta, Presidente, non è solo di ristori, ma di pagamento dei danni che ci sono stati. Voi come ConfCommercio, qual è il vostro punto di vista su questo? Il nostro punto di vista è di appoggiare i nostri associati, è evidente. E quindi hanno avuto un danno, se lo Stato pagherà questo danno, mi pare giusto. Ma senza vaccini il danno continuerà a ripetersi. E quindi io ritengo veramente che si debba in qualche maniera trovare la formula di vaccinare più gente possibile. Anche perché, Presidente, sappiamo che è tutta la filiera comunque coinvolta. Pensiamo ad esempio agli stagionali. Anche per loro è un grande problema. Ma certo, ma non solo gli stagionali. Tutti quelli che ci lavorano, che non hanno avuto la stessa possibilità di creare reddito. E se non creano la possibilità di creare reddito, neanche consumano. Quindi io che sono il Presidente di quelli che vendono o che fanno turismo, è evidente che, dico, questa gente i soldi in tasca non ha e non può neanche farlo. È un danno fortissimo. Senta, Presidente, adesso con il cambio di governo ci sono stati due ministri del territorio bellunese, insomma, che sono stati eletti e appunto diventati nominati ministri. Pensa che ci sarà più attenzione per la montagna? Io mi auguro di sì. Sono due persone di grande valore e sono due bellunesi. E io mi auguro veramente che questi possano fare qualcosa, ma non per il bellunese, guardate. Sarebbe anche ingiusto che uno dica perché è la mia piccola patria. No, no, per l'economia di tutta la regione e di tutta Italia. La montagna va tutelata in tutta Italia perché è il presidio contro le eventuali difficoltà idrogeologiche o comunque anche proprio opportunità turistiche. Ma per poter vivere in montagna si deve poter avere anche un reddito confacente, altrimenti i giovani fuggono. Ma la montagna è veramente una possibilità di guadagno economico per l'Italia. E pensiamo, mi è piaciuto molto uno dei interventi, oltre a Mario Draghi, il quale dice senza Italia non c'è Europa, ma fuori dell'Unione Europea non c'è l'Italia. E ha dato un particolare taglio anche all'ecologia. Ebbene, mi fa piacere l'ecologia perché il nostro territorio e in genere tutto il territorio montano italiano è ecologico per forza, perché lì non arrivano i grandi insediamenti. Lì non c'è quello che può esserci in una megalopoli un inquinamento dell'aria molto forte. E quindi ecco un'altra carta da giocare. Qui da noi vivi bene. E se permettete, il vivere bene vuol dire essere contenti. Eh, questo è importante soprattutto. Presidente, un altro tema. Abbiamo parlato degli alberghi, veniamo adesso all'ambito della ristorazione dei bar. Anche i baristi, i ristoratori, appunto, hanno vissuto un periodo davvero molto difficile. Forse i peggiori di tutti. Sono quelli che sono stati penalizzati più di tutti. Ecco, sappiamo che, per esempio, anche ConfCommercio si era battuta con Fipe per riuscire a prolungare. aveva chiesto di, in qualche modo, prolungare l'orario in cui gli operatori possono lavorare, oltre le 18. Chiariamoci subito di una cosa. Se vengono rispettate le regole, la mascherina e il distanziamento, perché no? In fondo, molti locali vivono la sera, ripeto ancora una volta, distanziamento, ci vuole intelligenza anche per gli avventori, non possono andare dentro e il gestore non può fare il carabiniere, è molto difficile. Ma se questo avviene, perché no? E in maniera particolare per i ristoranti. Perché in fondo, il ristorante, con tutte le norme che vanno rispettate, ha un distanziamento. E poter dare un po' d'ossigeno la sera, direi fino alle 10.30, butto lì un'idea, non sarebbe male. C'è sempre il buonsenso della gente. Molte volte, ahimè, non lo trovo. E sappiamo appunto che... Specialmente nei giovani, specialmente nei giovani che sono dei portatori sani e che dovrebbero avere un occhio di riguardo per le persone anziane. Cambiamo ancora argomento. La pandemia ci ha insegnato, ci ha obbligato ad essere più digitali, ad essere diciamo sempre pronti anche con i nuovi strumenti che sono messi a disposizione appunto dalle nuove tecnologie. Nel Feltrino c'è una proposta innovativa, Presidente, che vi ha visto protagonisti in prima persona. Confcommercio Belluno, insieme al Comune di Feltrino, ha fatto un progetto che io trovo meraviglioso, che si chiama Feltrino in vetrina, che è un portale. È il primo passo di una digitalizzazione di gruppo, di un territorio, dove viene messo in evidenza dove è questo locale, che cosa vende, quali possono essere le offerte. È il primo passo, un primo passo verso una formazione, una formazione anche digitale e di comunicazione. E questo è importante. Confcommercio, pensate, ha 14 programmi di nuova, dopo la pandemia, di formazione. Di formazione, ha 14 programmi e questi sono necessari per il commercio del domani. Non possiamo pensare di continuare a fare le cose che abbiamo sempre fatto, perché siamo destinati al fallimento. Dobbiamo essere innovativi e Confcommercio in questo è innovativo e aiuta i propri associati, tra l'altro quasi sempre con costi irrisori o addirittura gratis, per crescere dal punto di vista professionale. Bene, Presidente, io direi che abbiamo concluso questa nostra piacevole chiacchierata, abbiamo toccato alcuni dei temi più importanti legati all'attualità, tanti ce ne sarebbero ancora da affrontare con lei, ma avremo modo sicuramente di recuperare, perché sono tanti i temi davvero all'oggetto di attenzione in questo momento. Sappiamo che turismo, commercio e servizi stanno attraversando un momento davvero delicato. Grazie Presidente per essere con noi. Grazie a voi. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto. Arrivederci.